la vera festa di cristo re ricorda la sua regalità sociale la festa di cristo re concludeva il mese missionario di ottobre a significare che cristo deve essere riconosciuto come signore dei popoli e delle nazioni con la riforma viene spostato alla fine dell'anno liturgico e così perde il significato sociale in favore di quello escatologico allora pilato gli disse dunque tu sei re punto rispose gesù tu lo dici io sono re cristo è re come dio e come uomo è re come dio in quanto possiede insieme al padre e allo spirito santo il potere più alto e più perfetto su tutto l'universo è re come uomo in due modi prima in virtù dell'intima unione tra la sua divinità ed umanità l'unione ipostatica e secondo in virtù della redenzione che meritò per lui il potere assoluto su tutti gli uomini questa regalità di cristo su tutti gli uomini è soprattutto spirituale ma anche sociale ed era per celebrare per promuovere questa sua regalità sociale che papa più undicesimo scrisse la sua enciclica quas prima se stabilì la festa di cristo re per la chiesa universale la regalità sociale di cristo ora la regalità sociale di cristo il potere del signore di intervenire negli affari degli uomini tramite l'intermediario della santa chiesa cattolica lo scopo di questo intervento che non solo i privati ma anche i magistrati ed i governanti venerino cristo pubblicamente e gli prestino obbedienza che non solo individui ma anche le società non che tutto il genere umano si sottomettano all'impero e dalla potestà sovrana di gesù cristo ebbene a questo grave obbligo dell'uomo ad assumere il gioco di cristo nell'ambito sociale si oppone la tesi nefasta e perniciosa del secolarismo questa tesi sviluppata sia a partire dal novecento è nelle parole di san pio decimo de menternos del 1906 la negazione chiarissima dell'ordine sovrannaturale essa rivoluziona ugualmente l'ordine molto saggio stabilito da dio nel mondo ordine che esige un'armoniosa concordia tra la società civile la società religiosa queste due società hanno in effetti gli stessi soggetti visto che ognuna di esse esercita nel proprio campo la sua autorità su di essi la laicità dello stato infligge gravissimi danni alla società civile stessa perché non può né prosperare né durare a lungo quando non si crei un posto alla religione chiesa e stato purtroppo questa opposizione alla regalità sociale di nostro signore gesù cristo è entrata fino a un certo qual grado anche nella mente di certi uomini di chiesa cioè nella loro prontezza di separare la chiesa dallo stato nell'ecumenismo di cui più undicesimo scrive la religione cristiana fu eguagliata ad altre religioni false ed indecorosamente abbassata al livello di queste e finalmente nella promozione di prosperità progresso e pace sociale senza riferimento a colui che è nelle parole dello stesso papa l'unico autore della prosperità e della vera felicità sia per i singoli cittadini sia per gli stati l'opposizione al regno di cristo è stata espressa e preannunciata già nella parabola della gente che disse non vogliamo che lui regni su di noi e sarà vendicata nel giudizio universale quando nelle parole della stessa enciclica cristo scacciato dalla società o anche solo ignorato e disprezzato vendicherà acerbamente le tante ingiurie ricevute richiedendo la sua regale dignità affinché la società intera si uniformi ai divini comandamenti e ai principi cristiani sia nella legislazione e nell'amministrazione della giustizia sia nel provvedere per la gioventù una sana educazione morale esempi di questi crimini degli stati contemporanei abbiamo visto nelle iniziative del tutto vergognose di proporre come matrimonio alleanze abominevoli ed intrinsecamente pervertite e di proporre con un sottile e menzognero velo di decenza sotto il nome di corsi sul corpo e affettività dei programmi per offuscare le menti dei nostri figli distruggere le loro anime massacrare i non nati che si potrebbero concepire in seguito alla licenza morale a loro avvocata dove sono i cristerus oggi chi possiede oggi il coraggio tra i nostri governanti o i nostri prelati di ergersi contro questi oltraggi alla legge naturale alla legge divina alla ragione stessa ma soprattutto al nostro divino re dov'è lo spirito che abbiamo visto cento anni fa in messico lo spirito dei cristerus che si sono opposti al regime anticattolico del loro stato che prestarono giuramento di fedeltà a cristo re alla santissima vergine di guadalupe ricevettero il crocifisso al collo per mano del sacerdote e salutarono i loro compagni col saluto arrivederci in paradiso come preludio al loro probabile martirio dove lo spirito del loro capo l'avvocato josé anacleto gonzalez flores che morì torturato pregando per il suo carnefice lo spirito espresso nel suo testamento nelle parole seguenti gesù misericordioso i miei peccati sono più numerosi delle gocce di sangue che versaste per me non merito di appartenere all'esercito che difende i diritti della vostra chiesa e che lotta per voi vorrei non aver mai peccato in modo tale che la mia vita fosse un'offerta gradevole ai vostri occhi lavatemi dalle mie iniquità e purificatemi dei miei peccati per la vostra santa croce per la mia santissima madre di guadalupe perdonatemi non ho saputo fare penitenza dei miei peccati per questo motivo voglio ricevere la morte come una punizione meritata per essi non voglio combattere né vivere né morire se non per voi e per la vostra chiesa madre santa di guadalupe accompagnate nella sua agonia questo povero peccatore concedetemi che il mio ultimo grido sulla terra ed il mio cantico nel cielo sia viva cristo re